bentornati alla seconda parte dell'angolo dedicata appunto ai tulipani come avevamo promesso ci siamo spostati giù in giardino antonio in giardino queste questa è opera di mia sorella che da tanti anni ha la passione del giardinaggio e questi sono i miei tulipani tulipani alcuni veramente belli alcuni diciamo più comuni mi è appena caduto l'occhio antonio c'è un motivo per cui vengono tipo legati con le loro foglie questi che tu vedi legati sono i narcisi che ormai hanno già dato vengono sono stati legati per procrastinare ormai la pianta in modo che avvizzisca e per favorire la visione dei tulipani ecco questo quello che io adoro è questo rosso e lo vediamo questo è meraviglioso ha un colore stupendo vediamo sempre al suo centro vediamo questa via del la via del nettare del polline e tutti i tulipani ce l'hanno anche questo qui di questo colore rosa abbiamo una parte bianca centrale ecco qui vediamo già in c'era un'ape già in azione pronta a fare il suo dovere e poi questi gialli qui ecco io chiederei assin di fare di avvicinarsi a queste corolle sgargianti che sono qualcosa di meravigliosi giallo il nero guarda lì antonio c'è proprio del polline che è già stato si chiaramente le api quando vanno con le zampette grattano le antere e quindi praticamente il polline cade perché questi tulipani in questo momento stanno amando c'è questo è l'amore dei tulipani essere visitati dalle api e ricevere questi pollini che provengono da un altro fiore è per loro la più alta concezione dell'amore del loro amore vegetale che non è chiaramente non ha niente a che fare con l'amore degli esseri umani però anche tutte le piante questa situazione appunto data dalla riproduzione è qualcosa che che si ripercuote su tutti gli esseri esistenti questo alto voltaggio dell'amore permea tutti gli esseri viventi dai vegetali e anche gli animali prima parlavi degli ibridi antonio certamente gli ibridi per esempio questo rosa è un ibrido che proviene da un tulipano rosso classico a un tulipano bianco vediamo che però nei tulipani ibridi la via del nettare non è o del polline non è così marcata come nei tulipani classiche vi sono un po più deboli il pano rosso classico come questo che abbiamo fatto vedere in cui praticamente chiamato anche tricolore perché nero giallo e rosso è veramente qualcosa di stupefacente bellissimi davvero adesso ci spostiamo ecco vediamo questi tulipani che sono già molto aperti come avevo spiegato ecco quando noi li vediamo che stanno come si può dire ormai quasi appassendo è perché in realtà noi a noi non piacciono più perché hanno perduto parte della loro bellezza ma in questo momento loro si stanno offrendo ai pronobi e stanno sbandierando letteralmente i loro colori le loro attrattive e quindi è tutto un come si può dire un messaggio che danno è un messaggio che danno gli insetti pronubi e qui vediamo quanto polline vediamo questo stima particolarmente grasso e arzigogolato e anche a sopra una mucillagine questa mucillagine che produce anche zuccherina infatti è dovuto al fatto che i granuli di polline una volta che si attaccano allo stigma rimangono lì anzi poi l'esina del polline deve a questo punto deve creare il tubetto pollino pollinico che è quello che appunto porterà la vita veniamo questi rossi anche questi stanno letteralmente un pochino trapassando la loro bellezza però vedete come qui ce ne sono già di nascosti pronti a rimpiazzarli il tempo di tulipani in me è qualche giorno sono come tutte le cose belle non sono eterne il fiore forse una delle cose più belle che esiste in natura e come tutte le cose belle purtroppo non durano per molto tempo andiamo su uno dei libri di dei libri di olandesi questo è uno screziato ecco questo è proprio uno screziato guardate al suo interno che meraviglia che è sì perché proprio molto bello è cercare di di vederne il suo interno che bello anche quello lì antonio si è tutti anche quello bianco e giallo vedere qui a nostro e si quello lì quella specie arancio bellissima che è che è qui che non fa se tu la vedi sì maia si sa il fatto suo qui abbiamo un altro tulipano giallo bello dai petali accominati vediamo dentro quali sono le vie e scopriamo che questo ibrido ne è letteralmente privo ma non pensiate che l'insetto non debba vederlo probabilmente alcune parti traslucide in prossimità appunto dell'andro ginoforo creeranno sicuramente messaggi anche per le api per la via del netto e passiamo a questi bellissimi bianchi veramente eclatanti sono bianchi in cui le vie del nettare sono gialline è veramente meraviglioso vedere questi fiori credo che poche corolle possono rivaleggiare con i tulipa bellissimi a parte il profumo che emanano che è veramente bello provate non tutti ce l'hanno però provate carissimi telespettatori andare nel vostro giardino nel vostro orto a sentire le fragranze di tulipani perché purtroppo siamo in un mondo veramente in cui tutti siamo dimentichi di tutto nessuno più si china a sentire il profumo del fiore poi quando si tratta di fiori sai c'è questa diceria che se ne occupano le donne ma in realtà i grandi giardinieri sono uomini e così pure i floricoltori c'è questo messaggio ormai del macio del giorno d'oggi che non si deve più occupare di null'altro perché è tutto questo ma io dico che una persona che non sa vedere la bellezza di un fiore bene questa persona secondo me non vale niente perché io piuttosto di apprezzare una ferrari preferisco un tulipano perché questo l'ha creato domine dio la ferrari l'ha creata l'uomo che il figlio di un dio minore Antonio ma quando ci vengono regalati dei tulipani cosa cosa simboleggiano ecco io penso che il tulipano sia un simbolo di amore no come abbiamo detto l'abbiamo detto prima o è un simbolo è un simbolo però un po particolare un po sofferto nel senso di dire che è come dire guarda che io ho un sentimento per te chiaramente magari questa persona non si è accorta però ormai è inutile mandare dei messaggi nei fiori perché più nessuno li conosce più questi messaggi ormai una volta pensa c'erano questi bigliettini li chiamavano i valentine per giorno di san valentino appunto ci si si mandavano questi biglietti augurali e si mandavano praticamente questi biglietti una volta li sapevano leggere oggi non si mandano nemmeno più i fiori perché ormai è tutto cioè abbiamo svilitto tutto io credo che antonio mori nell'angolo della ricerca sia un caso limite nel senso di dire che vorrei spingere le persone a ritornare ad apprezzare le bellezze della natura e fermarsi un attimino ancora a passeggiare nel giardino seppur piccolo come il mio di sera quando tutti i profumi danno il meglio di sé magari con la luna e provando ancora ad avere delle sensazioni ancora a sentire ancora a guardare a sentire il bello ecco io sono una persona certo ho una vena particolarmente romantica nella natura sono un grande stimatore un grande amatore della natura e tutto questo è quello che si voleva in un certo senso far apprezzare i nostri telespettatori ritorniamo a una vita più semplice prendiamoci un periodo di tempo per condurre una vita più semplice impariamo ancora a godere della meraviglia della natura che ci si offre anche in un giardino ecco benissimo antonio concordo pienamente con le tue parole siamo arrivati al termine della nostra puntata noi ci vediamo ancora la prossima settimana e vi auguro un buon proseguimento arrivederci e grazie antonio arrivederci grazie a tutti grazie a tutti